Cresce il volume delle esportazioni dalla Germania alla Russia nonostante le sanzioni imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. A dirlo l'ufficio statistico federale tedesco che ha osservato una crescita del 92 per cento dell'export tedesco verso Mosca tra aprile e maggio 2022. Il dato sorprende rispetto al crollo registrato nei mesi precedenti quando il calo delle esportazioni era stato pari al 60 per cento in alcuni settori. La scelta di escludere i prodotti dell'industria farmaceutica dalle sanzioni ha portato questo settore a trainare la risalita dell'export. Nonostante la tendenza al rialzo a maggio i dati hanno mostrato una bilancia commerciale tedesca negativa. È la prima volta in 14 anni che il volume delle importazioni ha superato quello delle esportazioni.